Sporco impossibile? Unto di cucina? Sporco sulla federa? Unto di pelle qui sulla camicia? Ma l'unto è impossibile! No! Non esiste sporco impossibile per biopresto bucato a mano. Biopresto bucato a mano liquida anche l'unto! Perché biopresto scioglie lo sporco impossibile che di solito non viene via. Visto che è pulito e per biopresto bucato a mano niente più sporco impossibile né su asciugatoi da cucina, né sulle camice, né sulle federe. Biopresto bucato a mano liquida lo sporco impossibile su tutto il vostro bucato.